Forse non molto adatto a chi soffre di vertigini, ma sicuramente un'esperienza unica. Cenare a 50 metri d'altezza, seduti comodamente, mentre ti servono aperitivi e piatti stellati. Si tratta di Dinner in the Sky, il format ideato da David Gisels. Dopo Las Vegas, Florida, Canada, Australia, dal 20 aprile fino al 5 maggio, sbarcherà a Cattolica nella piazza del Tramonto. Sono stati chiamati i tre assi dei fornelli, Gian Paolo Raschi, chef del ristorante da Guido di Rimini, una Stella Michelin, che curerà pranzo e cena nella giornata inaugurale. Valerio Braschi, il giovanissimo talento di Sant'Arcangelo di Romagna, vincitore della sesta edizione di Masterchef, il 27 aprile a cena. Infine Diego Bongiovanni, chef della prova del cuoco e maestro dello show cookie. Il pranzo e le cene in compagnia dei tre chef stanno già facendo registrare un boom di richieste provenienti da tutta Italia, a cominciare dalla miglia Romagna e Le Marche, ma anche Campagna, Sardegna, Sicilia e Val d'Aosta. Verso il tutto esaurito, gli aperitivi a 50 metri d'altezza che si svolgeranno ogni giorno dal 20 aprile al 5 maggio alle ore 18. I commensali arrivano sul posto almeno 30 minuti prima, accolti dalle hostess, poi un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma, dove vengono allacciati i sedili in stile Formula 1 dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo all'altezza di 50 metri, dove si svolge l'evento che durerà mediamente due ore. Se si tratta di una cena, un'ora e venti per il pranzo e 45 minuti per l'aperitivo.